Se rilasciassi oggi l'intervista relativa allo stupro avvenuto nella mia comoda parte di un clandestino pakistano, non tirerei nuovamente in ballo la barbagia. Barbagia che giustamente è insorta. In un post su Facebook il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, chiede scusa e tenta di fermare le polemiche sollevate dalle sue affermazioni. Il caso è esploso nei giorni scorsi. Nell'intervista a commento della violenza di sabato notte in Centracomo per il quale è stato arrestato un pakistano, 41enne, Rapinese, aveva messo l'accento in modo molto critico sul fenomeno dell'immigrazione, consigliando di mandare gli immigrati in attesa di rimpatrio nelle zone deserte della Barbagia. In poche ore le sue parole sono arrivate in Sardegna, suscitando la reazione offesa e sdegnata della popolazione locale. Politici e amministratori sardi di ogni ordine e grado hanno censurato le parole di Rapinese. Infine il primo cittadino torna ad attaccare i partiti, tutto il resto però rimane sul tavolo, si legge ancora nel post di Rapinese, cosa facciamo con tutti questi clandestini che popolano rendendole invivibili le nostre città? E voi fratelli d'Italia che mi avete consegnato una Como che sembra Gotham City, potreste fornirmi un solo motivo per considerarvi una serie alternativa al PD. A Como la differenza tra voi e il PD con il quale avete inciuciata a tal punto da correre addirittura nella stessa lista le elezioni provinciali non si è proprio notata. Barbagia a parte, cari partiti, non avete altro da dire? Infine il sindaco conclude, il tema non è la barbagia, con la quale mi scuso nuovamente, il tema è la sicurezza e l'unica sicurezza è che la mia Como, grazie a voi, è insicura. Grazie a tutti.